Il CIPES ha detto no al maxicaro pedaggi del 375% delle A24 e A25. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha bocciato il piano economico finanziario proposto dal commissario fiorentino, nominato dal Consiglio di Stato per far fronte ai gravi ritardi ministeriali. Il PEF che riguarda Strada dei Parchi infatti è scaduto nel 2013. Da allora ci sono stati tre commissari e 18 ipotesi di PEF avanzate dalla società del gruppo Toto. L'ultima bozza, quella di Fiorentino, era considerata irricevibile da tutti gli enti. Prevedeva aumenti dei costi di percorrenza per gli utenti del 16% all'anno fino al 2030, anno in cui scade la concessione. La bocciatura decretata dal CIPES però non accontenta nessuno. I sindaci dei comuni tra Lazio e Abruzzo, attraversati dalle A24 e A25, che avevano protestato ai caselli, parlano di ennesimo mezzo risultato. Dal 2023 infatti scatteranno comunque gli aumenti del 34%, già due volte rimandati. E la sensazione è che il problema non sia risolto, ma solo posticipato. Della stessa opinione l'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Riccardo Mollo, che da un lato plaude alla proroga, infatti così ci sarà più tempo per trattare la revoca della concessione, dalla quale il gruppo Toto otterrebbe 2 miliardi e mezzo di risarcimento. Dall'altro però ritiene che le emergenze del presente ricordano a tutti che il tempo è scaduto. Il PEF, infatti, oltre a scongiurare il caro pedaggi, dovrà consentire i lavori di messa in sicurezza, i cui ritardi stanno già causando il licenziamento degli operai impegnati nei cantieri. Si attende l'adeguamento sismico delle infrastrutture classificate come strategiche dalla protezione civile a seguito del sisma del 2009, mentre sono in corso inchieste da parte di quattro procure sul degrado dei viadotti e la loro mancata manutenzione. Ma non solo, il PEF dovrà prevedere anche misure per il contenimento degli attraversamenti della fauna selvatica. Sono 70, infatti, gli incidenti che nel 2021, sulle A24 e A25, hanno coinvolto le specie che abitano nei pressi di quella che, non a caso, si chiama strada dei parchi. Nei primi mesi del 2022 ne sono stati già 33, di cui 7 hanno coinvolto animali di grandi dimensioni. L'ultimo incidente è avvenuto ieri mattina, vicino Pescina, quando un camion ha investito un cervo, illeso il conducente, morto l'animale.